Buongiorno a tutti carissimi, come state? Spero di cuore che state tutti bene ragazzi. Oggi io sono entrata a ringraziarvi di cuore per tutte le messaggi belle che voi mi le lasciate, per tutte le coricine, tutti i baci. Sono felice che tutti i miei consigli per voi sono utili. Oggi mi sono pensata, avendo in considerazione che è rimasto l'energia di questa bellissima eclissa di luna, mi scusate, fine in 25 c'è questa bellissima energia, io mi sono pensata a presentarvi oggi a tutte le persone che mi fate seguire un rito della fortuna, di dinaro, di successo, di tutto ciò che voi desiderate a parte soldi. Questo rito si fa giovedì, iniziando da ora 12 fino all'ora 8 di sera, voi lo potete fare. Questo rito è dedicato per la pianeta giove, la pianeta di prosperità, di abbondanza, di dinaro. È un semplice rito che voi lo potete fare tranquillamente a casa vostra, basta che mi seguite e ascoltate tutto ciò che vi imparo io a fare e io vi garantisco che ve lo fate con tanta fede, con tanta energia, si prende e la vostra situazione economica si cambierà. Diciamo che avete ultimamente problemi di dinaro, non vi mai funziona con soldi, non mai rimane soldi da voi o qualcuno per la invidia va fatto un po' di mal di occhi sui vostri soldi. Voi potete sbloccare tutto ciò facendo questo rito. Volete avere successo in vostro affare? Giustamente facendo questo rito voi potete avere un grande successo. Volete avvingere soldi? Qualsiasi cosa voi desiderate tramite soldi lo potete fare. Che dovete fare voi? Voi avete bisogno di un piatto di colore bianca o può stare anche colore verde diciamo così o gialla perché verde, giallo, anche marrone tira soldi. Giustamente che avete bisogno di un barattolo di vetro che voi lo lavate con acqua e sale e lo lasciate asciugare e dopo su questo barattolo prendete un foglio bianco dove fate la runa di prosperità, la runa F, questo è un tipo di F e scrivete 777 perché c'è la cifra di miracoli diciamo così. Dopo che il barattolo si è asciugato non lo lavate con sapone, niente di che lo lavate solo con acqua e sale. Lo lasciate asciugare da sé, non lo dovete asciugare voi. Prendete un foglio bianco dopo lo prendete qua con banda adesiva o perché no con cola, scrivete questa bellissima runa che porta la fortuna è la cifra 777, 777 perché è la cifra che porta la prosperità. Dopo lo mettete su un piatto così. Che mai avete voi bisogno? Di una candela di colore verde, no? Verde chiusa, diciamo così, verde scuro, no? Perché su questa candela voi con un stuzzicadente vi scrivete nome iniziando da qui, ok? Da base, nome, cognome e dopo vi fate tre desideri tramite soldi. Potete scrivere soldi di tre volte, potete scrivere lavoro di tre volte, potete scrivere prosperità di tre volte o potete scrivere successo, no? Dopodiché voi questa candela lo date con olio di oliva e lo posizionate avanti così, speriamo che mi sta, avanti così, diciamo, no? Avanti così de barattolo, no? Se no potete fare proprio così, lo mettete così, avanti, no? Ma prima lo date con olio di oliva scrivete tutto ciò. Ma avete bisogno di sette monede, no? Perché sette? Perché rappresenta tutte le giorni della settimana, no? Sette monede di ferite, non importa, non deve esserci tutti uguali, che anche questi voi le lavate con acqua e sale e lo lasciate su un salvetino, diciamo così, asciugarsi, no? Giustamente che mai avete bisogno di tre foli di menta, mentuccia, che lo potete trovare anche fuori, in giardino, o chi so io fuori, tre foli, perché la menta tira la prosperità. E giustamente sette cucchiai di zucchero bianco o zucchero canela. E giustamente che mai avete bisogno anche di incensio, di dinaro, o qualsiasi tipo di incensio che tira soldi, no? Perché dopo che voi ha spreparato barattolo, ha spreparato tutto ciò, ha spreparato soldi, tutto ciò, dovete dare fuoco a questo incensio, uno che tira soldi, no? Questo per soldi. Si trova in negozi, la cinesi. E tutto questo fumo lo mettete proprio così in barattolo, caricandolo, già con l'energia di dinaro. Vedete? Già lo caricate con l'energia di dinaro. E lo lasciate proprio così, io lo metterò qua un po', lo lasciate proprio così a rimanere questo fumo dentro, vedete? Dopodiché che fate ragazzi? De voi avete bisogno di soldi, la vostra energia di soldi non c'è, è giù. Prendete nelle vostre mani una moneta e iniziate a dire come vi dico io, no? Dite così, i soldi arriveranno a me e rimangono con me e fate metterlo dentro per fare il sgomoto, no? Cioè per sentirsi il rumore, per sentirsi il rumore, no? E in caso in quale volete la vostra affare che vi funziona, potete dire la prosperità, la successo è come, rimane come, mettete dentro. Qualsiasi desiderio voi avete per soldi, no? la ricchezza è con me, rimane con me. Vedete? Proprio così. Mettiamo questo bene perché lo prende così. Cioè, di nuovo soldi. I soldi arriveranno da me e rimangono con me. Uguale. qualsiasi desiderio voi avete per soldi, no? Volete vincere, diciamo, la gioco di fortuna, che giocate gratta vincita, la lotteria, tanti soldi arriveranno subito nella mia vita e rimaneranno subito e per sempre rimaneranno con me. Io, di solito, quando faccio questo rito, lo faccio proprio per soldi. Dico, soldi arrivano da me e rimangono a me. Così si dice. Rimangono con me per sempre, no? Dopo che voi avete smesso queste monetine, no? Prendete sette cucchiaini di zucchero. Va bene? E per qualsiasi cucchiaio dicete come questo zucchero è dolce, così saranno soldi dolci nella mia vita. Come questo zucchero è dolce, così sarà dolce la mia prosperità. Due, tre, come questo zucchero è dolce, così sarà la ricchezza dolce come, no? Quattro, come questo zucchero è dolce, si indulciscono soldi come, come questo zucchero è dolce, la mia fortuna sarà dolce. Cin, sei, come questo zucchero è dolce, soldi saranno dolci come, e sette, uguale come questo zucchero è dolce, soldi saranno dolci o la prosperità sarà dolce. Va bene? Dopo mettete la menta, anche menta, la menta non dovete dire niente sulla mentuccia, che fate voi adesso? Ma imitete un po' di questo, no? Un po' di fumo, di incesto, di questo, lo comprate da negozi, vi ho detto, di dinaro, della fortuna, cioè, sono tanti tipi e negozi anche da cinesi, no? Anche in tutte le parti, no? dopo fate un po' così, per fare, vedete come si fa dentro, per fare un po' di rumore, ok? E dopo lo, lo prendete nelle vostre mani, visualizzate un, pioggia di soldi che arriva su di voi, visualizzate tutto ciò che volete voi, lo caricate praticamente con l'energia positiva, avete desiderio che vi comprate una casa, lo visualizzate già come se forse già è comprata, avete bisogno di tanti soldi, visualizzate nella vostra mente, emittetevi desideri come se forse già ci sono in realtà questi soldi, già arriverate, volete che vostro affare sarà prospera, visualizzate già, vi immaginate con la vostra mente che tutto è in realtà, è tutto bene, che soldi arrivano da cielo, mettete anche mano così dopo di che mettete, lo chiudete, no? Bene. E che fate voi? Vi mettete avanti la candela, ok? Così, lo lasciate almeno metà, fine la metà, così lo lasciate a consumare, e fra tempo voi potete esprimervi i vostri desideri, di soldi, potete pensare a soldi, potete stare vicino di la candela almeno 10 minuti a pregare, potete chiamare in aiuto angelo della prosperità, Angelo dell'ambundanza, che lo trovate anche su internet, su Google, trovate questi bellissimi angeli, chiedete a universo che vi porta nella vostra vita, ma tutto positivo, niente negativo, non dovete avere in quei momenti pensieri negativi, vi dovete liberare la mente praticamente di tutte le energie negative, spendete un po' il telefono, mettetevi una musica un po' di abbondanza, ci sono tante mantre su internet che porta questa bellissima energia, state un po' tranquilli, almeno 20-30 minuti fino a quando fate questa cosa, perché questa cosa si fa solo giovedì, vi ho detto, inizia da ora di 12 da giorno quando è ora 12, pranzo, diciamo così, fine la sera all'ora 8, dopo che la candela è già fatta la metà, lo potete chiudere e questo barattolo così com'è con la runa con la cifra 777, lo mettete sotto di vostro letto e lo lasciate lì ragazzi almeno due settimane in fine quando mi scusate, i vostri desideri iniziano a trasformare in realtà, quando voi vedete che già qualcosa di vostro desiderio ha preso già in realtà, prendete le monede e le portate avanti vicino di una chiesa, diciamo che avete trovato già il vostro lavoro che lo desiderate di tanto tempo e prima erano tanti bloccaggi, prendete queste monede e le mettete vicino di una chiesa sulle scale, su un fiore, la umadonina, zucchero insieme con la mentuccia lo potete mettere in natura la radice di un fiore, diciamo, la radice di un arbore, fine quando il vostro desiderio non si trasforma in realtà lo lasciate sotto letto, chiuso, che non lo vede nessuno, ok? quando voi già vedete che diciamo ha svinto tanti soldi o inizia a funzionarvi con dinaro o inizia la prosperità a rivela nella vostra vita vi ho detto aprite bene questo bellissimo barattolo, prendete le monede li portate alla chiesa o li datela a una persona povera per comprarsi pane o fate qualcosa fate un atto di carità però voi in questo tempo giovedi tutte le giovedi si può fare questo rito lo lasciate questo barattolo dopo che ha finito il rito dopo che l'ha scaricato con la vostra energia positiva già ha fatto materializzare in realtà le tutte cose positive quando voi già iniziate a avere risultati positivi diciamo così per i vostri desideri per l'energia del dinaro e che si sta trasformando in realtà ringraziate l'universo per tutto ciò portate queste monede portate zucchero e la mentuccia e natura e vedrate che l'universo non dorme voi ci credete tanto in l'universo in divinità giusto anche nella potere divina di Dio creatore di tutto questo mondo e anche la vostra potere la vostra forza intera io vi dico che tutto si può trasformare in realtà è impossibile che questo rito non si prenda io vi auguro di cuore che te lo fate prenderà una bella fortuna per voi tutti che avete problemi che vi trovate in difficoltà con soldi sono curiosa qualche persona che lo fate mi scrivete e mi lasciate su WhatsApp un messaggio sì che si è preso se è successo qualcosa di positivo sarò felicissima perché allora prenderò la forza a impararvi anche altre cose pensate però positivo vi auguro di cuore una bellissima serata insieme con vostri cari con vostri familiari insieme con le persone che voi avete in vostro cuore vicino di voi e che li volete bene giustamente che anche io vi voglio tanto tanto bene e ci sentiamo alla prossima un bacio